Una domanda, nell'incontro di decina quando vedo che ci sono amici che partecipano agli incontri piuttosto che venire alle lezioni del mattino, io cerco sempre di innalzare l'importanza delle lezioni del mattino ma questo significa giudicare gli amici, come mi devo comportare io con gli amici che non vengono a lezioni del mattino ma sono presenti agli incontri, non so, questo mi dà tantissima confusione anche perché hanno ruoli importanti nel cli Io non vi capisco, non vi capisco, di cosa parlate negli incontri in decina, di cosa parlate nei vostri incontri io penso che in generale negli incontri in decina voi dovete parlare di quello che avete sentito durante la lezione del mattino e se loro non sono venuti alla lezione del mattino, di cosa parlano loro? come fanno a partecipare negli incontri se non sono stati alla lezione? deve essere una linea continua, come una linea dalla lezione agli incontri, dagli incontri alla lezione cosa fanno loro? Vengono negli incontri e si siedono lì e parlano giusto per chiacchierare con gli amici, io non ho bisogno di amici così io ho bisogno di amici che sono con me in questo cammino, che si svegliano durante la notte e studiano insieme a me tutto qui non c'è nient'altro che tu puoi fare e noi siamo in una situazione dove tu hai solamente bisogno di alzarti dal letto e sederti davanti al computer non è come era prima, ai tempi di Bala Sulam, Mourabash con Bala Sulam era differente Bala Sulam, lui viveva da una parte di Gerusalemme e Bala Sulam viveva dalla parte completamente opposta di Gerusalemme e lui doveva camminare oltre un'ora per raggiungere la casa di Bala Sulam dove tutti gli studenti si incontravano e c'era un amico che io avevo conosciuto che guidava da Tiberia era in un camion in Tiberia e lui guidava da lì per raggiungere Bala Sulam quindi dalla Tiberia a Gerusalemme lui guidava da lì e raggiungeva Gerusalemme nel mezzo della notte e questo era come facevano ai tempi erano tempi differenti loro investivano una grande energia ma oggi tu ti devi solamente alzare dal letto prepararti una tazza di caffè e sederti di fianco al computer davanti al computer accendere il computer e sei già a lezione e tu hai traduzioni hai spiegazioni hai tanti amici che puoi vedere attraverso lo schermo pensi che questa è una cosa difficile? ma io non lo penso cosa ci possiamo fare? ok 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 ok